Leggo e non leggo dei testi di una serie che si intitola Silk Immagini Umane, delle prose dell'arco temporale 2007-2009 e anche delle non prose dello stesso arco temporale e che comunque sono in sviluppo e rappresentano una sequenza in parte ancora da precisare. E' in parte soltanto un'asse della raggera di stili e di scelte comunque stilistiche che porto avanti da diverso tempo. Per certi aspetti queste stesse prose entrano nel giornale del viaggio in Italia, che è la mia sezione in un libro che è uscito da poco, che si intitola Prosa in Prosa, di cui poi eventualmente possiamo parlare, che è un'antologia di sei autori. E per altri si distaccano frontalmente dalla media delle prose che io stesso invece ho posto in un altro libro, peraltro della stessa collana, che è la collana fuori formato delle lettere, che è uscita qualche anno fa, nel 2007, che si intitola La casa esposta, che è quel libro con il rettangolo azzurro che vedete lì a destra. Perché anche quello è un libro composto in parte da prose. Uno Con l'approvazione del pacchetto antimateria, il governo fronteggia con successo. Leadership 810, calci, voglia di mettersi in gioco, impresa del golfista, Miami, yogurt per il video, minuto, gli incubi, le paure, le domande più frequenti, ben evidenziate. Come fare dunque? Da che parte cominciare? Il governo sembra puntare sull'annichilazione. Approva l'antimateria. Il pacchetto, una volta arrivato alle camere, ha risolto. Prima di passare al Senato, basta che tocchi la materia. Senza paese è tolta anche la crisi. Che gli ci vuole al Mediterraneo per rimarginare il buco? Danizza la Dalmazia, fai il giro o salti. Uguale. È l'uovo. Due. Esce dal club. Ma ho letto che è l'ultimo posto, non lasciarmi lì deve essere particolare. Come fa? Scende dal tetto, entra in soggiorno, arriva in camera da letto, porta i suoi parenti giapponesi, i carnivori lo stesso. I piedi non si salvano, iniziano sempre a mangiare da lì, anzi. Il regicida la notte fa vivere questa parte di lei, piccola e sincera. È turco. Allo zoo ti aiutano a leggere, a uscire da te stessa. Devi riconoscere questo tuo limite, contatta la Toyota, la Toyota Italia. Sanno ottenere in 15 giorni, hai un subito. Te lo dicono anche da che compili che qualcuno esce dal club cambiato. Sanno come collegare la presa del telefono, otto post, tre autori, in camera tua. Legalismo, allora il fitness, dissipazione, avambracci, la suzione ideale. Tre. Voler volentieri, di buon grado, presa d'aria per sommergibili. Circa 48 ore, castori, stoppa di petto, io ritorno al Petrarca e al Chiabrera, basta con tutte queste cazzate, date la stura al sonetto, fate, faccio, facciamo, spiegare la buccina, l'olio balsamico, il toreadore glicolico, tio Bembo amicissimo suo, cacciamo le murene, facciamo l'imbandigione, enormi sconti, tom tom, il sesso con pale di zinco. Popoli, politica, panino. Fa la tradiz, l'effetto Larsen al citofono, citi, lì la citofonia cittadina, contadina, rientri, sì, in range, range, prendi una cinquantina di quei grossi che vivono sui cavoli, che mordono, stabili e sodi, e spuntano dalla mascella di Arqua, riduci mente alla vipera, allo scorpio, prendi la dominidio, la sostituzione, la stalla, volupté, perro depresa e deprensa, fai il sano proponimento, aspetta, compra il cestello di rose, ci scrivi la poesia. Quattro, neolirica delle particelle, che come vedete non c'è. Quinto è un'immagine, che spiega tutto, evidentemente. 6. Arazzi, dipinti, poderi, pollo, sia nelle campagne, sia nelle città, andarono a nascondersi, andarono in gran parte distrutti all'epoca, ma si conservano esempi notevoli, fu presso di loro rifugio, presso da presso, venne inviato come ambasciatore, andò affievolendosi da sempre al confine, al confino, due torri posteriori, si vedono chiaramente, quando si sposta cattività e liberazione, in nome di Dio, più a viva forza, che per capitolazione, il 5 agosto, durò, continuò a resistere a Volterra, a mangiare e bere, i dintorni andarono popolandosi progressivamente, di numerosi, altra carne, tutto quello che aveva preso come prova, trovò, trovò anche lui la casina, la gallina, la cucina, la mescalina, l'urina, la paracodina, oh, né qualcosa, l'oriente era oriente. Sette. Lei non deve più cercare una farmacia. Nel mare di Napoli i bambini fanno il bagno nei vermi, non c'è nessun'altra città, si comporta come i nostri artificiali, impressione di un grado di inciviltà, nuotare e vedere, il leone è ferito, ma non è morto, le carte magnetiche saltano, è tutto bloccato, shark download, ha l'idragirismo, le centrali impazzite, nei relai le parti plastiche si fondano a quelle metalliche, a Genova la costa diventa nera dalla notte prima, un crostaceo, dice il sindaco, è tutto stionato, parla, fa, ma io provavo a liberarlo, inoltre prendevo in braccio la forma di una deità, era la voce da fuori, nuota, e allora vuol dire che è vivo, si attacca allo sfintere dei fascisti, dunque del 95%, 96%, e trasmette le sue spore all'apparato urogenitale, attraverso il midollo, nuota e chiama le meduse, ciclamino, dice, vedi, il più grande è insanguinato e sembra sapere le prime parole, fa il voodoo tutti i venerdì, il rosario di sabato, spacca la conchiglia, riempie l'hard disk esterno del ministero con tutto il bene, soccer, 3D, squadre vere, con veri nomi, il suo vomito, test delle bestemmia, 6 teste, 8 bit, a una velocità, sono 50.000 terabyte di violenza in un solo secondo, in un'ora tutta la spiaggia è incendiata, alla villa di Hardcore suonano tutti gli allarmi, si alza l'elicottero, scoppiano le vene, i fotografi portano via i paraplegici dai tetti, i mirini e i teleobiettivi sul pavimento solo scudi umani, Aculei ha espulso il verme, triscio, non aveva nessun amico in farmacia, l'acquario è interamente rosso, membra fluttuanti come fumo, carne, sodama, ondeggiante, nessun tipo di locomozione, animale è più sorprendente, al mattino non resta che il carapace, il polpo non è neppure ferito, se ne trovano tre a Nizza, i parassiti hanno preso il controllo, accendi il primo canale, trasmettono gli ordini adesso, fanno vedere la bandiera. Durante 8, durante il breve soggiorno a Macapà, radio Londra, in città alla rinascita degli Olivetti e Giubbotte. Ma questo è solo l'inizio, poi da un mercoledì pomeriggio, anche guardando distrattamente, intorno è assolutamente pieno di bramini, di trappisti, ovunque nelle strade, si sono convertiti improvvisamente quasi tutti, almeno 50 milioni, non sono più brutti e morti, sono spirituali, sono, pregano, sono, ci sono delle giocatrici di canasta, delle torce, il gatto delle nevi si ripara da sé, lavoravo come traduttisce Freelance, ero del tutto all'oscuro, non mi sarei mai aspettata tutto questo, ti prego di credermi, e non ero abituata ai ritmi, prese il paio di sandali di cuoio, no, meglio salire prima nel soppalco, è seriamente un miracolo, ero abituato a mangiare 20 pandistelli ogni mattina, si pente del proprio passato. Vieni a cantare ad asti con gli abeti, in un momento in cui la stenografia decade in tutto il mondo, loro pigliano il bolsello, la ricerca scientifica ha fatto grandi passi, sussurra a Cinzia, spingendo, cielo mio marito, ironizza. Nove. Settanta ore senza cibo, senza luce e con il terrore che tornassero le duchesse. Stese la coda in acqua e come un remo della trachea scagliò sui topi la sua maledizione. Sono i classici italiani in edicola, disse affogando, tutti lo videro dalla riva gettando le plastiche deformate. Dopo qualche minuto si fece silenzio, si allenta la presa, sul suo cammino di iniziazione incontra uno scarafaggio, poi un grillo, ma corre e prende l'aquilone, ma un grido acuto arriva al Partito Comunista, alla Corea del Nord, ma era in sella una moto, chiese ai contadini di chi fosse, no reply, allora Gesù ci si getta come un lampo sopra e ne fa un sol boccone. Perché tutti questi manufatti nelle tombe? Non sapete che in assa hanno chiuso i locali infestati? La crema inacidirà e voi sarete gettati nella genna, 4 a 0. Calci sul filo dello scroto, poi tutto questo ci dispiacque, ci ferì. Invece che il 9, il 3. Informale per la vita. Consolatore, fortificante, insegnandoci ogni cosa e ricordandoci tutto ciò che ci disse l'esploratore pirla poco prima di morire, ci descrive il sentiero pietra per pietra, la trasformazione del personaggio come perché cambia il protagonista di una grande storia. Con grande soddisfazione si è constatato un ulteriore aumento nel 3 dopo Cristo e con ciò si può mettere punto. Ora, risvolto sociale della storia. Tutti erano appiedati, eccetto pochi cavalieri ed armigeri sui fianchi. Ci disse distrattamente, provate il tiro alla balestra, non ve ne pentirete. Molti anni dopo, capimmo, era stato molto utile anche per l'allattamento e i datteri. Tutti avevamo le lacrime agli occhi e in altre parti del corpo. 10. Hai la soluzione. È quell'elemento gioioso che fa vivere nella tua mente un'immagine ma anche un'idea, una sensazione. Canticchia, per cortesia. Mi stupisce doverne scrivere. Mi stupisce doverne parlare. Questa playlist sarà resa pubblica sul tuo profilo se si legge la documentazione di BMW che dice che non va bene come è anche perché devi solo sensibilizzare la tua manina. Infine, se non ti ricordi più la password del tuo id, clicca qui, clicca in assoluto. La lingua della tua anima è la voce, è in simbiosi, è con il cuore che batte. Con molto cuore si possono fare molte cose, con molto cuore si possono fare anche poche cose o non farne, ma è il cuore che conta, mentre se ci pensi non puoi dire così dei cangurini di trucciolato, della mafia, della gestione delle pagine e discussione, della vernice per patenti, di un certo numero di acri, della libertà di espressione e di circolazione delle merci. Se leggi Oriana Fallaci puoi capire le cose. La licantropia in Europa si apre tutto un mondo di professionalità e cortesia. Questi prodotti ti hanno stupito, sei rimasto colpito da loro, avevano cuore e ti hanno persuaso. Scrivi la tua opinione quando sei corretto. La correttezza e gli appassionati e i competenti di orologeria meccanica fanno il tour IOMU. Azienda leader nel benessere, cerca ragazzi e in avanti, anche indietro, purché corretti, richiesta, professionalità e cortesia, richiesti, cangurini, mafia, licantropia, merci, Oriana Fallaci, IOMU. Undici. Sonetto. Aico. Tanca. L'acqua mi parla. Parole vere, vezzi suoi, con il filtro a cono. Grazie. 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 Grazie.